Amici di Parla Europa, ben ritrovati, vi parliamo dal Parlamento Europeo di Strasburgo e siamo in compagnia di uno dei suoi rappresentanti più autorevoli, mi riferisco a Giuseppe Gargani, l'onorevole Gargani che è il presidente della Delegazione dei Popolari per l'Europa. L'onorevole Gargani non ha bisogno di presentazioni, una lunga carriera politica tutta sotto le insegne del popolarismo europeo, la tradizione che senza nulla togliere ad altri importanti contributi si può definire l'anima dell'europeismo del secondo dopoguerra. Ecco, onorevole Gargani, a che punto è l'Europa in questo momento? E' una domanda complessa e complicata, l'Europa è ad un snodo e non è una frase retorica né una frase fatta, le prossime elezioni stabiliranno se il modello europeo si concretizza, se veramente diventiamo cittadini europei e se c'è un'Europa politica che si configura come un'Europa federale dove la strategia economica è subordinata alle idee politiche e alla strategia politica. Quindi noi siamo ad una posizione definitiva rispetto all'avvenire, i costituenti volevano un'Europa politica, la crisi economica nell'ultimo periodo ha fatto prevalere il dato economico, la legge dei mercati, la finanza, e quindi la politica è rimasta indietro, è andata sott'acqua e quindi non ha governato il processo. Noi come popolare riteniamo di essere all'avanguardia, rispetto ai socialisti riteniamo di essere una forza culturale giovane, una forza culturale che tiene conto della persona è proprio dell'idea europea dei cittadini dell'Europa e dei cittadini di un continente che deve comprendere i vari stati e deve avere una sovranazionalità. Allora il punto centrale è, per far capire a tutti qual è il problema, che finora c'è stata un'Europa intergovernativa, cioè un'Europa fatta da governi che dovevano trovare un accordo e un equilibrio, a volte anche all'unanimità, quindi molto faticoso. Noi dobbiamo essere invece un'Europa comunitaria, dove la sovranazionalità viene temperata e equilibrata rispetto alle sovranità nazionali, ma tutti gli atti e tutte le delibere che l'Europa fa e il ruolo del Parlamento deve essere finalizzato al bene di tutte le nazioni, non di alcune a svantaggio di altre. Non ci deve essere un'Europa del Nord e un'Europa del Sud, ma un'Europa che divida i sacrifici, ma che al tempo stesso indichi una strategia per lo sviluppo, perché l'Europa deve svilupparsi in quanto, finora, ha segnato il passo. L'economia va male, la disoccupazione aumenta e quindi l'Europa non esplode nel grande disegno che i costituenti avevano e che i popolari vogliono portare avanti, soprattutto in questo periodo. Di qui le iniziative che abbiamo preso alla delegazione italiana, Popolari per l'Europa, significa che vuol dare un contributo al popolarismo europeo, che finora è un'astrazione, ma che deve essere riempita di contenuti proprio da chi ha una tradizione forte, struziana, decasperiana come noi in Italia, per dare valori, per organizzare strategie, per avere il principio della solidarietà europea, della sussidiarietà che costituiscono i cardini, i caposaldi di una funzione europea nell'ambito del mondo. Lei, Presidente Gargani, ha citato Alcide De Gasperi, che è uno dei patres europei, e certamente non le sfugge che nella proposta de Gasperiana c'era anche in nuce molti anni fa il progetto di una difesa comune europea, di un esercito europeo. È un tema attuale secondo lei? Più che attuale, perché siccome gli eserciti servono per difendere e non per attaccare, noi oggi abbiamo bisogno di un'espansione, soprattutto nel Mediterraneo, ma di avere una politica della difesa, della sicurezza comune, generale e l'Europa politica di cui si parla. Io vorrei ricordare una cosa che credo possa impressionare fortemente chi ci ascolta. De Gasperi nel 1953, visti che lo abbiamo citato, 1953, tanti anni fa, fece una profezia, io la considero una profezia, perché disse che se un giorno si fosse verificata la moneta unica, fosse venuta fuori la moneta unica, quindi allora di monete uniche non si ne parlava, quindi l'Euro, che l'Europa non fosse preparata politicamente, organizzata politicamente, De Gasperi diceva che ci saranno grandi problemi. E noi abbiamo questi grandi problemi, allora abbiamo un'Europa che da 15 stati è diventata molto più grande, 28-29 e questo ha rallentato il processo politico di sviluppo, perché 12 nazioni in più, 12 paesi in più, mentre hanno un po' rallentato questa omogeneità politica, questa unità politica di cui io parlo. I 15 paesi avevano già trovato nel 2005-2004 una intesa politica, un'amalgama. Lei pensa che ci sia stata un'accelerazione eccessiva da questo punto di vista? Sì, ci sia stata un'accelerazione eccessiva e che ha rallentato questo processo. Allora, siccome lei mi chiede la difesa, la difesa fa parte della politica, la sicurezza fa parte di un processo comunitario, dove le istituzioni, la difesa del territorio e il rapporto con il resto del mondo, con gli altri continenti, è il cuore del problema, è l'anima del problema e il protagonismo che l'Europa deve avere rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Presidente Gargani, normalmente in questa nostra trasmissione, siccome si parla troppo poco di Europa, in Italia noi cerchiamo di evitare i riferimenti alla politica italiana, però le prossime elezioni europee segnano una importante novità rispetto al passato, anzi due, la necessaria dichiarazione di appartenenza delle liste che dovranno dire a quale gruppo parlamentare intendono iscriversi e l'indicazione di un presidente federale, di un presidente della Commissione che poi dovrà essere ratificato secondo i passaggi previsti dai trattati, ma in qualche modo sarà legittimato dai cittadini. I socialisti hanno indicato per questo ruolo Martin Schulz, i liberali Guy Bevorstad, i popolari ancora nessuno. Perché? Lo indicheremo il 5 marzo a Dublino, al nostro congresso del Partito Popolare Europeo. Ma qui voglio dire una cosa che riguarda l'Italia, visto che poi noi siamo italiani, e riguarda l'Europa. A me fa piacere che i socialisti si mettono insieme, si aggregano. Io da un anno e mezzo, da vari anni anzi, ma da quando sono capogruppo auspico che le famiglie politiche europee, si chiamano così, si mettono insieme, si unifichino. E quindi i socialisti devono essere unificati, i popolari devono essere unificati. Noi, rispetto a chi effettivamente poi, perché bisogna naturalmente decidere questo, si ispira al popolarismo. E non è una cosa vacua, il popolarismo è una cosa seria. L'ha inventato Asturzo, Colla, Denauer, e l'hanno visto finalizzato questo ruolo del popolarismo come cultura e come strategia istituzionale all'Europa unificata, all'Europa unita, fonte di pace e quindi di sviluppo. Allora, questo popolarismo si deve aggregare in Italia, ma seriamente, non per appartenere tanto per appartenere. L'appartenenza oggi in Italia, secondo me, deve prevalere rispetto alla grande personalizzazione che c'è stata in tutti questi anni, che ha mortificato la politica, ha avvilito la politica e ha allontanato i cittadini dall'istituzione, dalla fiducia. politica. Questo è un dato importante e fondamentale. La personalizzazione è la causa dello sfacello in Italia delle forze politiche e del ruolo che ognuno ha. La politica sono le persone, invece la politica è una cultura, è una strategia, è una collegialità, è un'idea. Noi dobbiamo ritornare a questo. Il mio lavoro è stato, la mia azione è stata unificare quelli che, per dirla in un gergo molto facile, che la pensano in maniera uguale, che la pensano rispetto ad un comune impegno e non fittiziamente. I socialisti italiani, quelli del PD, se sono socialdemocratici diventino socialdemocratici, accettino e quindi si unificano sul piano europeo. mi auguro che in Italia quelli che hanno indicato Schulz siano socialisti e che quelli che non sono socialisti si adeguino in maniera diversa a indicare un altro che non è socialista, perché Schulz è un socialista forte, è un socialista vero, tutto si può dire che non sia socialista. Quindi noi dobbiamo chiarificare in Italia gli orientamenti culturali e politici, da dove veniamo e che cosa vogliamo fare. Naturalmente la indicazione dei popolari ritarda, lei ha ragione. Abbiamo aspettato che, siccome facciamo il congresso, naturalmente il congresso è un momento solenne della vita europea, quindi mi auguro che lì in maniera seria si faccia il nome di una persona che possa essere veramente interprete di tutti i bisogni dell'Europa, dei popolari in particolare, ma di tutta l'Europa nel suo complesso. Presidente Cargani, un'ultima domanda che ci riporta sempre a questi temi. Lei ha detto, è una cosa che non si sente più dire tanto spesso, ma credo sia utile dirla, che un leader non basta, che non basta un chi ma serve un cosa. Il problema di questo cosa in Europa è anche la prevalenza, la ricordava lei in apertura, di certi paesi su altri, di certe aree geografiche o economiche su altre. Dal congresso dei popolari europei potrebbero venire delle risposte anche in questo senso. Io ci spero molto, perché un'Europa tedesca non interessa gli europei, un'Europa che fa riferimento solo alla Germania e la Germania deve capire che solo Germania senza l'Europa non ha senso in una realtà di globalizzazione come quella italiana, né sul piano politico e neppure sul piano economico. Se il congresso dei popolari fa veramente un passo avanti per indicare una via di sviluppo, ma anche davvero una possibilità che i vari paesi si ritrovino collegialmente in una dimensione unitaria, a prevalenza di nessuno, di nessun paese, ma tutti questi paesi devono trovare un leader adeguato a interpretare tutti, non più uno e meno un altro. Non l'Europa del Nord, come ho detto prima, l'Europa del Sud, ma un'Europa alla doppia velocità, perché l'Europa se vuole avere un avvenire, una strategia deve essere un'Europa unitaria sul piano politico, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano dei diritti civili, sul piano dei diritti fondamentali, sul piano di una strategia che la fa diventare il protagonista nel mondo. Noi abbiamo bisogno non di essere in difesa, non di essere una nazione che vivacca, un continente che vivacca, un'unità di stati che vivacca, ma abbiamo bisogno di essere un'unità politica strategica. La Cina si è organizzata, purtroppo prevale, l'America, l'India, sono tutti paesi che sono orientati verso uno sviluppo. L'Europa ha l'impressione di essere orientata ad una stabilità, però una quieta stabilità che non porta a progresso e non porta a sviluppo. Ecco, dobbiamo fare esattamente il contrario e l'impegno in questo momento, soprattutto dell'Italia, dei popolari dell'Italia, è in questo senso. Io do una mia piccola collaborazione perché questo possa avvenire. Benissimo, erano le parole di Giuseppe Gargani, Presidente della Delegazione dei Popolari per l'Europa, qui al Parlamento europeo di Strasburgo. Il rilancio del popolarismo, nell'opinione del Presidente Gargani, è simmetrico e complementare al rilancio dell'idea di Europa. Io sto per pubblicare un libro, Una nuova primavera per il popolarismo. Io mi auguro che ci sia un rilancio del popolarismo e quindi una nuova fiorire dei fiori in un'epoca primaverile. Benissimo, speriamo in questo risveglio primaverile per tutti, più fiori ci sono, meglio è. Grazie a Giuseppe Gargani per averci concesso questa intervista, grazie soprattutto a voi per averla cortesemente seguita. Arrivederci su Parl'Europa.